Nome? Giulia. Cognome? Lauria. Età? 20. Segno zodiacale? Vergine. Professione? Studente universitaria. Colore preferito? Blu. Film preferito? Pretty Woman. Che tipo di musica ascolti? Da De Andrea e Lady Gaga. Pratici sport? No. Perché? Sono pigra. Hobby? Shopping. Cambieresti qualcosa di te caratterialmente? Sì, essere meno timida. E fisicamente? Sì, Jessica Park. Preferisci montagna? Mare. Natura o città? Città. Perché? Odio gli insetti. Preferisci vacanze lunghe e rilassanti o brevi ma divertenti? Lunghe e rilassanti. Dove vorresti vivere? New York. E come ti vedi tra 5 anni? Non lo so. E tra 10? Neanche. 2. Gliadini Grazie a tutti